Via Le Barelle dal corridoio del pronto soccorso dell'ospedale di Lanciano, dopo alcuni anni di chiusura e lavori di ristrutturazione, è stata riconsegnata l'osservazione breve con otto posti letto. Cerimonia informale, senza il direttore generale della ASL, assente per altri impegni, né il sindaco. Padroni di casa, la direttrice sanitaria facente a funzione del Renzetti, Maria Di Sciascio e la direttrice del pronto soccorso Nicoletta Fini. È un periodo di affollamento, hanno detto i medici, con circa 120 accessi al giorno, per lo più sono codici gialli. Per quanto riguarda i codici rossi, qual è la tipologia di accesso? Il 90% dei pazienti sono pazienti cardiologici, neurologici, però arrivano anche politraumi. Arrivano politraumi o con la medicalizzata o non medicalizzata perché sono instabili, quindi dobbiamo stabilizzarli e poi trasferirli. O se no vengono con i mezzi propri, perché c'è tanta gente che è caduta dall'alto eccetera, viene qui con i mezzi propri, quindi dobbiamo calcolare anche quelli. Per i lavori la ASL ha investito 200 mila euro con il rifacimento delle stanze, pavimenti, impianti, bagni interni. Un aspetto tecnico importante riguarda la pressurizzazione degli ambienti che permette un isolamento totale delle stanze in caso di pazienti con malattie infettive. La direttrice del pronto soccorso del Renzetti, Nicoletta Fini. La giornata di oggi, questa riapertura dell'osservazione breve, vi dà respiro? Ci dà respiro soprattutto per quanto riguarda il caos che già impera nel pronto soccorso, di suo. Per cui il caos è prettamente di pronto soccorso. Togliere le barelle dall'ingresso, togliere i pazienti, soprattutto perché sono grandi anziani, da situazioni spiacevoli, da caos generale, è una grande cosa. Per cui metterli qui in protezione, dove ci sarà sempre un medico, un'infermiera adatta a tutte le situazioni, ridiamo dignità ai pazienti. E poi c'è una camera speciale. Sì, noi la chiamiamo 413, perché il numero di telefono di quella stanza era 413, è una stanza a pressione negativa, dove eventualmente dovessero riverificarsi dei casi di covid o di infezioni di sepsi, perché non è solo il covid il problema, noi possiamo isolarli e metterli in quella stanza. Grazie.